Ciao a tutti ragazzi sono Orkoverde, in questo video volevo informarvi di una cosa importante dato che molte persone non sanno e comunque sia me lo chiedono sempre insomma non ho ancora deciso come chiamare questo video però vorrei attirare un po' di attenzione con questo video per cui non lamentatevi se questo video l'ho chiamato con un titolo tipo urgente o qualcosa di simile come sapete io ho una crew personale creata da me su GTA V Online come la maggior parte di voi avrà ben notato la mia crew ha 1000 membri ovvero il numero massimo di giocatori che possono unirsi in una crew adesso che la mia crew ha raggiunto il limite massimo di persone sto controllando ogni giorno in ogni momento libero della giornata che ho per controllare se qualche giocatore che fa parte della mia crew ha la crew inattiva se c'è un giocatore che è dentro la mia crew ma la mia crew la tiene inattiva ovvero che non si vede il tag con scritto Orku ma si vede un altro tag di un'altra crew quel giocatore sarà cacciato da me quindi io caccerò quel giocatore che è dentro la mia crew ma che ha la crew mia inattiva per il semplice motivo che vorrei dar spazio ai veri Orki che mi seguono non vorrei aprire una crew secondaria per il semplice motivo che sono abbastanza incasinato a controllare tante cose la pagina facebook youtube social club la crew quindi preferirei evitare di creare una crew secondaria sicuramente tra poco la mia crew avrà 1000 membri 1000 giocatori con tutti i giocatori con la crew attiva a quel punto non potrò più espellere persone in quanto non espello la gente che è dentro la mia crew con la crew attiva però voi fan potrete aprire una crew secondaria chiamandola crew di Orku Verde 2 scrivendo nei tag sempre Orku cosicché non cambia nulla dalla tag della mia crew e mi farete capire che sarete sempre i miei fan insomma alla fine è come se sareste dentro la mia crew l'unica cosa è che non potrete avere l'emblema che ho della mia crew in quanto quell'emblema l'avevo buggato tramite un glitch dell'account social club però adesso non funziona più per cui chi creerà la crew secondaria dovrà per forza impostare un emblema diverso dall'emblema che ho io attivo nella mia crew se volete entrare a tutti i costi dentro la mia crew che ho creato io dato che per il momento è piena se volete ragazzi potrete fare un po' i forbetti nel senso controllare spesso la mia crew e se vedrete che ci sarà qualche posto libero entrarci subito ovviamente questo solamente se qualcuno, qualche membro che sarà dentro la mia crew lo vedrò con la crew inattiva in quanto lo caccerò e farò posto a qualcun altro mi raccomando ragazzi purtroppo devo fare così per cercare di accontentare un po' tutti insomma ne approfitto anche a dirvi che ho raggiunto il limite massimo di amici ne ho 2000 sul mio account psn per cui evitate di scrivere elimina giocatori inattivi piuttosto entrate dentro la mia community che ho creato l'anno scorso su ps4 la community si chiama orcover the gamer come il canale tra parentesi yt l'immagine della community è una V di GTA V e Trevor per cui se volete entrare potrete entrarci così che quando creerò un party pubblico, una sessione pubblica o comunque sia qualche giocatore che fa parte della community giocherà con me potrete unirvi tramite quella persona senza per forza avermi come amico niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale condividete questo video sui social network e da orcover e da tutti noi ci vediamo al prossimo video bella